Una seduta straordinaria della Corte Costituzionale con due specifici scopi. Nella prima parte la lettura da parte del Presidente della relazione sulla attività della Corte nell'anno 2015. Nella seconda parte un incontro del Presidente con i rappresentanti della stampa quotidiana. ...con il mondo dell'informazione per un discorso sull'attività svolta nell'anno dei poteri ma sostanzialmente dotato di compiti. Nel corso del 2015 la compagine del Collegio si è significativamente modificata. Presidente della Corte in qualità... Applausi ... 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